Abbiamo parlato tanto di sport, di tante cose, di impianti, di logiche, di istruporazioni. Queste sono cose che poi si potranno vedere dopo, a seconda della domanda di disponibilità che ci sono, perché è inutile che ci raccontiamo fare dei voli più larici quando non ci sono le possibilità. Queste persone aspettano due cose, hanno lanciato due allarme principali che forse non sono stati ben colpi. Volontariato nelle società, se noi pensiamo che lo sport, ed è così, è cultura, se noi pensiamo che lo sport è vita, allora esiste il volontariato anche all'interno delle associazioni e delle società sportive. Dobbiamo trovare il modo di farlo emergere e di valorizzarlo. E qui ritorno a un discorso, all'altro discorso che si faceva. Questi signori stanno facendo fatica, come si direbbe in una famiglia, a tirarla a fine del mese. Per cui le realtà sono queste. Poi potremmo parlare di tutto il resto, ma le prime cose sono queste. Allora dobbiamo dare la possibilità a tutti, siccome svolgono un servizio sociale, mettiamocela la testa di una volta per tutte, di avere la possibilità di poter operare in tranquillità. E qui lancio una provocazione, che ancora non ho sentito dire da nessuno. Lo sport è un servizio sociale o no? L'ho detto, scusa ma l'ho detto. No, no, ma non questo, un'altra cosa. No, no, l'ho detto che vanno sui servizi sociali. No, no, ma io voglio arrivare a un'altra cosa, la provocazione mia. No, l'ho detto, scusa ma l'ho detto. Ma non è questa la provocazione. L'ho detto. Ho detto, dico, siccome abbiamo detto che è un servizio sociale, allora i soldi bisogna andare a trovare dove sono. Allora ci sono anche le fondazioni bancarie, che una volta per tutte, se non hanno il regolamento adeguato, lo devono adeguare. Perché se a un certo punto noi assistiamo nipoti, figli, meno giovani e anziani, è chiaro che svolgiamo un conto importantissimo. L'ultima cosa va da sé, che il CONI deve rimanere. Perché mi sembra un qualche cosa fuori dal mondo da poter nominare un delegato con tutti i problemi che ci sono. Grazie.